Buonasera a tutti amici di Betty e Marco. Allora stasera intanto un bacio grazie per la pasta. Stasera faremo una delizia che Marco adora. Sono le melanzane alla pizzaiola fatte in padella. Semplicissime. Andiamo a vedere i nostri ingredienti. Allora, due melanzane nere, poi abbiamo mozzarella, pomodoro, quindi passata di pomodoro, sale, origano, pepe e olio. Quindi possiamo fare entrambe le cose immediatamente. Quindi si chiamano melanzane? Alla pizzaiola. È una squisitezza. Allora, ho preparato la nostra griglia. E io le adoro, amore. C'è qualcosa che tu non adori in cucina? Hai ragione. Ok. Oggi siamo al buio, c'è una lampada in meno. Non fa niente, i nostri amici ci guardano lo stesso. Allora, la prima in assoluto ovviamente è andare a grigliare le nostre melanzane. Non le faremo fritte, le facciamo grigliate. Quindi, proprio una cena light. Però qua tu non risparmierai un'altra cosa. Il formaggio? Il panuzzo. Ah, il pane. Perché tu ti bagnerai, ti metterai, ti inzupperai il pane. Va bene. Ti mangerai un filone. Andiamo a grigliare le nostre melanzane. Quindi si grigliano in maniera classica, diciamo. Ok. Melanzana nera. Melanzana nera. Si può fare con la melanzana? Assolutamente sì. Quale melanzana? Quella viola, la tunisina. Certo, anzi, io la trovo secondo me più dolce. Ok. Nel frattempo noi andremo a grigliare le due melanzane e andiamo a preparare il nostro pomodoro. Come? A pombarolo. Uno spicchietto d'aglio. Un giro d'olio. Accendiamo. Questo è anche col pomodoro fresco. Certo, col pomodoro fresco un'altra cosa. Però io non l'ho potuto fare, quindi... Questa è la versione rapida. La versione rapida. E facciamo il pomodoro in bottiglia. Ok. Naturalmente le devi fare... Certo, sei chili contiamo. Dieci di queste grigliate. Cioè, quindi sono cinque. Cinquanta ne devi fare. Anche se restano. Le metti con la pasta oppure le mangi lindomani. Insomma, non c'è una buona buona, ma sono sicura che i nostri amici le hanno già fatte. Lo sai l'ingrediente segreto di oggi qual è? Quale, amore? A pombarolo in coppa. No, sei un criticone. Sempre che mi critici. Non è vero, io scherzo. Queste sono due meravigliose mozzarella. Sì. Ok, quindi vanno arrostite tutte le manzane. Tutte arrostite. Ok. Intanto andiamo a mettere la nostra salsa. Oggi siamo al buio, l'ho detto. Si è fulminata una luce. Ok, questa la prendiamo pure. E andiamo a condire il nostro pomodoro. Io già sento il profumo d'estate. Qui ancora no, che siamo in piena estate. No, amore. Intanto fa più fresco a Palermo perché la temperatura è calata a 26 gradi. Però ti dico una novità, da mercoledì ho letto le notizie. Torna per tutto ottobre il caldo africano. Non ci posso credere. Allora amici, un pizzico di sale. Un pizzico di pepe, lo mettiamo pure. Che non guasta mai. Un po' di origano. E lasciamo cuocere la nostra salsa. A fuoco lento. Ma mancherebbe in teoria un ingrediente segreto che di solito tu usi. È il basilico. Eh? Adesso lo mettiamo. Il basilico preferisco metterlo dopo, altrimenti la foglia diventa scura, si annerisce. Ok. Lo metteremo in seconda fase. Ok. Quindi lasciamo cuocere il nostro pomodoro. E le nostre... E grilliamo tutte le melanzane. Allora amici, dopo che l'ha passata già cotto un 5-6 minuti, cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere i capperi. Ma questi non li avevi detti come ingredienti? Sì, certo, si mettono i capperi. I capperi dissalati, ovviamente. Dissalati? Sì, con acqua normale. Ok. E poi andiamo ad aggiungere un po' di parmigiano. Oh, ma questo è il tutto segreto. Non è segreto, amore. E io quando c'è il formaggio qua grattugiato... Mamma mia che meraviglia. ...imparzisco. Io qua ci calerei due spaghetti. E anche io, vita. Ok, intanto aspettiamo le nostre melanzane che si cuociono. Allora amici, le nostre melanzane le abbiamo arrostite, quindi cosa facciamo adesso? Il nostro sugo è pronto. Togliamo l'aglio. Scusate, ma non riesco ad acchiapparlo. Perché si leva, amore? Ma è buono, io lo mangio l'aglio. No. L'aglio fa bene. No, lo devo togliere qui. È un antibiotico naturale. Adesso cosa facciamo? Prendiamo le nostre melanzane. Queste le ho fatte rotonde perché era troppo grossa e le ho fatte rotonde. Ok. E le andiamo a mettere nel sugo. Si può fare di qualsiasi forma, mamma mia. Ovvio, a noi la forma della forma non ce ne frega nulla. Ok. Quindi le andiamo a posizionare tutte nel sugo. Buonissime. Eh sì, stasera, amore. Ma non queste, devi fare otto teglie di queste. Ma? Otto padellate. A questo punto cosa faccio? Io prendo un cucchiaio, prima di mettere le altre, e vado a coprirle con il sugo. Ok. Faccio andare un po' di sugo sopra. Sono sempre a fuoco lento, eh? Non ho spento il pomodoro. Ok. Abbiamo aggiunto capperi, abbiamo aggiunto il formaggio grattugiato. E adesso continuiamo a mettere le nostre melanzane. Ah, quindi uno sopra l'altro? Sì. Sì. Che meraviglia. Eh, buona, amore mio. Poi il rapido è rapido. Sì, non ci vuole niente, è soltanto arrostire le melanzane. Ok. Le abbiamo messe tutte. A questo punto cosa facciamo? Mettiamo anche un po' di salsa in queste sopra. Quindi le copriamo. Il sugo sta cuocendo ancora leggero, leggero, eh? Ok. Io ho usato una bottiglia intera da 750. Di passata. Sì. Adesso cosa facciamo? Prendiamo un pizzico di sale, lo andiamo a mettere sopra, e lasciamo le cuocere in questo modo per tre minuti, ma nel frattempo... Senza coperchio? Senza coperchio. Prendiamo la nostra mozzarella e la andiamo a tagliare a fette. La potremo fare pure a cubetti, ma io preferisco farla a fette. Abbiamo tagliato, amici, la nostra mozzarella. Ma buona, eh, amore? Devo provarla. Già, è perfetta. Allora, prendiamo la mozzarella e la andiamo a mettere sulle nostre melanzane. Così vengono proprio alla pizzaiona. Eh sì, queste sono melanzane alla pizzaiona, ma fatte in padella, non ci vuole nulla. I nostri amici così preparano scene veloci, veloci, però gustose. Ok, abbassiamo la fiamma. Sopra la mozzarella dobbiamo andare a mettere un po' di urinano. Proprio tutto sopra le melanzane. A questo punto serve il nostro coperchio. Copriamo per tre minuti. Potete usare anche della scamorza, o possiamo usare anche un altro tipo di formaggio. Io preferisco mettere la mozzarella, perché mi piace la mozzarella. Allora, facciamo sciogliere la mozzarella e poi alla fine aggiungiamo l'ingrediente, quello segreto, che definisce la nostra ricetta. Allora, amici, le nostre melanzane alla pizzaiola sono pronte. Spegniamo, togliamo il coperchio. Mamma mia. Ah, che meraviglia. Che profumo. Fammi spostare dove c'è più luce, amore. Che meraviglia. Il profumo è impressionante. Ovviamente le foglie di basilico non possono mancare. Certo. Il basilichello ci sta. Una meraviglia. Sì, sì. Proprio melanzane alla pizzaiola, in padella. In padella. Queste le lasciamo riposare mezz'oretta, un quarto d'ora. Buone. Spero che la nostra ricetta vi sia piaciuta. Siete una meraviglia. Per tutti i complimenti, veramente le parole dolci che ci dite. Eh, che dire. Un bacio. Giustizia per Beatrice. Buona cena da Betty. E Marco. Ciao amici. A domani con la pasta buonissima. Ciao amici. Ciao amici. Ciao amici. Grazie.